Ciao a tutti! Allora, secondo giorno di prigionia e oggi mi sono dato alla lettura. Ho riletto la fine del mondo storto di Mauro Corona, che suggerisco veramente a tutti perché è illuminante, illuminante, splendido. E poi ho rivisto il video di Bruce Lipton, La mente più forte dei geni. Questo lo suggerisco per gli amici che credono ancora nella supremazia del DNA e nel destino già fissato. Lo suggerisco questo video. Poi mi sono dato invece la lettura di questo, Silvano Agosti, veramente splendido. Lettere dalla Chirghisia. E allora voglio leggere pagina 32, una citazione veramente interessante, direi, per il momento che stiamo passando adesso. Ogni essere che viene al mondo cresce nella libertà e si atrofizza nella dipendenza. Pagina 55. Com'è possibile che uno stato funzioni quasi da solo? Il nostro principio motore è l'autogestione a tutti i livelli. E ora vado a seguire una mia passione, un mio hobby, un mio passatempo. Vado a cercare corna di cervo, i palchi dei cervi, perché adesso so che li stanno cambiando. E quindi vado a divertirmi un po' in questa ricerca. Ciao a tutti!